Grazie. Grazie. Tutto a posto per lo streaming e per la radio? Ci siamo? Buona? Dammi l'ok quando... Ok? Allora, grazie a tutti. Oggi presentiamo il Mare Nostrum positivo del 18 ottobre in Piazza Duomo. Contiamo di riempirla come non è mai stato fatto negli ultimi anni. Ci sono pullman in preparazione non solo da tutto il nord ma da tutta Italia, da Roma, da Viterbo, da Isernia, dalla Puglia, persone che arriveranno dalla Sardegna, dalla Sicilia. Ad oggi, avendo appena cominciato l'organizzazione, ci sono già più di cento pullman organizzati e riempiti da tutto il nord. Abbiamo una linea telefonica ad hoc, visto che non è una manifestazione. Sarà la manifestazione degli ultimi anni. Il numero a cui tutti possono chiamare per chiedere come raggiungere Milano è lo 0266 234 234, che immagino domani sarà ampiamente riportato su tutti i quotidiani, anzi magari nel titolo o nell'occhiello. Lo ripetiamo per l'Ansa, che non l'ha scritto, 0266 234 234. Ci sono richieste di adesioni da parte di tanti comitati, associazioni, uomini delle forze dell'ordine, disoccupati, esodati, cassintegrati, i dimenticati italiani in genere. Non solo italiani, perché è una manifestazione nel nome del rispetto della legge, della convivenza civile e dell'integrazione vera. Quindi che si rivolge anche ai tantissimi immigrati regolarmente presenti in Italia, che sono arrivati per lavorarci, per metterci famiglia, per mandarci figli a scuola, per integrarsi. Quindi è una manifestazione assolutamente aperta, pacifica, a volto scoperto, colorata. Ci invitiamo le famiglie, mamme, papà, bambini. Sarà l'ultima manifestazione sorridente che facciamo, perché dal 19 non siamo più disposti a tollerare quella che è un'invasione pianificata a tutti gli effetti, che al di là delle manfrine sull'articolo 18, contribuisce a erodere ulteriormente diritti e stipendi dei lavoratori, sia italiani che stranieri. Con l'occasione pubblicheremo anche un numero speciale in centinaia di migliaia di copie della Padagna, che danno i numeri veri di Mare Nostrum, che è un fallimento totale da tutti i punti di vista. È partita dopo la strage di 360 immigrati a Lampedusa, ebbene partita nel nome della riduzione delle partenze e delle morti, solo nel 2014 ha causato più di 3.000 morti nel Mar Mediterraneo. Quindi è un'operazione stragista. Oltretutto. Che costa un occhio della testa, che non si rivolge ai richiedenti asilo, perché i numeri ci dicono che sono una minima parte coloro che ottengono lo status di rifugiato politico alla fine del percorso. Anzi, stando ai dati del Ministero dell'Interno, su 191.000 richieste fra il 1990 e il 2013, lo status di rifugiato è stato riconosciuto a 17.489 persone, quindi meno del 10%. Stendo un velo pietoso sui costi umani, sociali ed economici dell'operazione, che non ha nessun tipo di senso. Noi il 18 aspettiamo anche in Piazza del Duomo tutti coloro che stanno perdendo la casa, e a cui ovviamente questure, prefetture, enti locali mettono due dita negli occhi perché non sono sbarcati e quindi hanno il torto di essere qua o da cittadini italiani o da cittadini immigrati regolarmente presenti. E quindi chiederemo che venga applicata la stessa generosità e vengano dati gli stessi 40 euro anche a tutti gli italiani che hanno perso, stanno perdendo casa e lavoro. L'occasione è propizia per presentare anche per la prima volta nella storia della Lega la creazione di un Dipartimento Sicurezza e Immigrazione che ho chiesto di coordinare all'amico Tony Ivobi un Dipartimento, quindi non sarà un uomo solo al comando, ma coordinare un gruppo di lavoro di donne e uomini che a differenza di quello che fa il Partito Democratico il tema lo conoscono, l'hanno vissuto e a maggior ragione lo capiscono da vicino. Quindi siccome immagino che molti di voi siano qua anche per sentire Tony, gli lascio il microfono per una sua presentazione, a voi che siete qua e vi ringrazio, a chi ci sta seguendo in diretta via radio, a chi ci sta seguendo in diretta via internet tramite lo streaming e quindi penso che il microfono e tutti i giornalisti presenti siano qua per te Tony, quindi se vuoi ricordare chi sei e perché sei qua. Innanzitutto devo ringraziare il nostro segretario federale Matteo Salvini per aver creduto in me, investendomi di queste grandi responsabilità di cui sono consapevole, quindi grazie segretario, grazie capitano. So che è un compito non facile, particolarmente in questo momento in cui viviamo, come i paesi vive, è una difficoltà veramente economica, non indifferente. Ormai sono in questo paese da 38 anni, dal 1977. Sono arrivato in questo paese con tanto di visto, per il motivo di studio, cominciando veramente dal basso, dal fatto che ho cominciato a lavorare in un maneggio, poi ho fatto un salto di qualità, come manovale edile. Così via via, ho scopato anche le vie di Milano come spazzino. Prima di fare quel stato di qualità professionale, nel senso che sono laureato in informatica, oggi gestisco una mia ditta, una ditta di informatica con 12 dipendenti assunti, grazie a Dio. Quindi, ormai, diciamo che conosco la realtà italiana dal basso. Sono consigliere comunale da circa più di 15 anni, iniziando come consigliere di minoranza. Sette anni fa, la mia scremamento ha vinto l'elezione del mio paese, mi ha concesso la possibilità di gestire un assessorato molto delicato in questo momento, un assessorato che fa riferimento ai servizi sociali. Immaginate quanto può essere difficile nel momento in cui assistiamo a diminuire ogni anno il trasferimento dello Stato, aumentando, triplicando le richieste dei nostri concittadini. ecco perché io ho definito questa operazione Mare Nostrum, particolarmente in questo momento, un'operazione di grande sciocchezza, mai compiuta nella storia della Repubblica Italiana. Ancora di più se lo stesso governo di un paese civile compie questa operazione. Un'azione tipicamente di racismo mascherato dei massimi responsabili di un paese civile nei confronti dei suoi concittadini. ormai sappiamo tutti quanti che oggi abbiamo una disoccupazione giovanile che è salita ormai da oltre il 40%. Senza dimenticare gli esodati, senza dimenticare quelle categorie di persone, oggi oltre cinquantene, intere famiglie senza lavoro. Un esercito. Quindi, maggior motivo di concentrarsi sulla questione interna, cercando di limitare oppure dare quella regola per quanto riguarda l'immigrazione. Sentite, quando parliamo di immigrazione, ci sono due tipi di immigrazione. Immigrazione controllata, che ben venga, aiuta, l'economia del paese ospitante. Ma oggi stiamo parlando di immigrazione clandestina, che è un reato in tutto il mondo. Non vedi perché? L'Italia deve essere in eccezione in questo tema. Quindi, che ben venga la battaglia, segretario. Siamo pronti. dobbiamo obbligare i nostri governanti ad ascoltarci, perché abbiamo veramente tanti giovani, tante persone, tanti italiani, che stanno emigrando, perché stanno vivendo un momento molto difficile, quindi un momento sbagliato di non applicare, di non controllare questa immigrazione. e in più possiamo dimostrare che questa operazione, un'operazione di mancanza di rispetto nei confronti degli stessi immigrati, in quanto vengono tratte con inganno, sapendo di non poterli garantire il futuro. Quando finiranno quei fondi distanziati dalla comunità europea? Cosa faremo? Chi garantirà loro il futuro? Quindi, abbiamo noi i nostri poveri, in patria nostra, i nostri figli, i nostri ragazzi, i fratelli, i seruelli, senza lavoro. Perché dobbiamo importare altri nuovi poveri? sapendo che non possiamo assolutamente garantire il futuro. Ecco perché diciamo che devono cessare questa operazione immediatamente. Poi, credo che avremo molto da discutere in questi giorni sull'opera del mare nostro. Signori, io dico sempre che l'integrazione è un dovere di ogni città di uno straniero un dovere sacco santo ed un fatto individuale di ogni straniero. Non ci vuole una legge per obbligarmi ad integrarmi in paesi ospitanti. E il nostro governo non può pensare assolutamente di creare una società multietnica in così breve tempo. Abbiamo una nazione, una grande nazione, una grande nazione per l'eccellenza una società multietnica ma non perfetta che oggi vive anche i suoi problemi che ha impiegato duecento anni, più di duecento anni per creare questa società che si chiama Stati Uniti d'America. Quindi non possiamo pretendere noi italiani di creare questa società in così poche tempo ecco perché non è assolutamente consigliato. Ecco perché la Lega veramente è contro questa operazione di mare nostro. È una grande idiosia lo definisco, assuma questa responsabilità. Ecco. Poi se ci sono domande siamo qua. grazie grazie Toni. Non so come funziona con il microfono per far sentire anche in diretta ecco se c'è qualche domanda c'è il microfono a disposizione se siamo stati esaustivi tanto di guadagnato. Pronto? Sì? Arriva eh? Per chi ci ascolta in radio arriva la domanda. No volevo chiedere a Toni se non vede Mare Nostrum anche come un'operazione per salvare vite a persone nigeriane come lei che vengono in Italia a cercare un futuro che lei comunque è il suo presente. Poi volevo chiedere a Matteo Salvini se ha fatto questo incontro con i governatori comandato se ci può dire qualcosa e se parallelamente alla creazione di questo dipartimento ci sono stati altri cambiamenti interni segreteria politica dipartimenti allora parto io no non ci sono altri cambiamenti interni anche perché abbiamo già in agenda un consiglio federale fissato per lunedì prossimo il 6 ottobre all'interno del quale presenteremo e prenderemo alcune decisioni quindi per oggi ci limitiamo al tema immigrazione sì ho visto sia Zaia che Maroni stiamo concordando alcune iniziative comuni anche in tema economico anche in tema di resistenza fiscale su cui stiamo lavorando e quindi di cui parleremo a tempo debito ci sarà un coordinamento settimanale delle due regioni del Lombardo Veneto un'iniziativa che sicuramente sarà comune sarà di chiedere indietro allo Stato italiano le centinaia di milioni di euro che le regioni stanno anticipando per prestare cure sanitarie agli immigrati clandestini stiamo parlando di centinaia di milioni di euro che le regioni anticipano che poi la legge vorrebbe lo Stato italiano tramite le prefetture rimborsasse è giusto che tutti vengano curati perché tutti dal primo all'ultimo essere umano hanno diritto di cure però se la legge prevede che lo Stato italiano debba rimborsare ripeto non stiamo parlando di qualche milione di euro stiamo parlando di qualche centinaio di milioni di euro o lo Stato italiano rimborsa Lombardia e Veneto per queste spese sostenute oppure saremo costretti a pignorare qualche bene pubblico dello Stato italiano attualmente presente in Lombardia e in Veneto per quanto riguarda Mare Nostrum Tony si vedi quando si parla della vita umana tanto di rispetto ma la vita umana può essere evitata in moltissimi modi quelli di cercare di non farli partire assolutamente dall'altra costa poi ho notato anche una cosa che sembrerebbe che i mari Nostrum andavano oltre la nostra costa l'altra parte della costa risponde per prelevarli se facciamo se applichiamo una politica di immigratore controllata penso che questo flusso sicuramente diminuirebbe e poi vi faccio una domanda sulla costa mediterranea esiste soltanto lo Stato italiano? perché gli altri altri paesi come Grecia e Spagna che fanno parte anche della comunità europea li spingono e nessuno dice niente per quale motivo? ve lo chiedo domande? ecco servini una cosa lei ha detto è l'ultima manifestazione che faremo sorridendo l'ultima manifestazione sorridente dal 19 cambiamo chiedevo che succede dal 19 visto che non sorridete più e l'altra cosa ai vobi se non prova imbarazzo a essere il responsabile del dipartimento immigrazione di un partito che ha uno dei suoi esponenti principali il senatore Calderoli sotto processo tra l'altro nella sua città Bergamo per razzismo e un segretario che io oggi me lo sono andato a vedere perché c'ero che nel giorno della sua elezione a Padova ha detto abbiamo fatto per una vita i camionisti e gli infermieri non abbiamo disimparato però è chiaro che se arriva il primo bubru e viene pagato la metà io non posso competere con chi dorme in 15 in 10 metri quadrati grazie sottoscrivo quanto detto a Padova e lo ribadisco nel senso che l'immigrazione incontrollata è un modo per ridurre ulteriormente diritti e salari dei lavoratori italiani o immigrati regolarmente presenti per quanto riguarda la manifestazione in piazza ci saranno famiglie non ci saranno spacca vetrine spacca macchine o tafferugli di nessun genere è chiaro ed evidente che se da Roma o da Bruxelles non basteranno 100.000 persone che dedicano un sabato pomeriggio tolto al lavoro alla famiglia per cambiare qualcosa è chiaro che la prossima volta non andiamo a Milano ma andiamo direttamente a Roma sempre in maniera pacifica ma un po' più incazzata perché qua ci sono di mezzo vite umane ci sono di mezzo interi quartieri delle nostre città in mano all'immigrazione clandestina che occupa fa e disfa tutto e quindi la Lega è sempre stato un movimento pacifico lo rimarrà chiaro ed evidente che se la dimostrazione di forza del 18 ottobre non avrà alcun effetto né a Roma né a Bruxelles continueremo a essere pacifici e un po' meno sorridenti Assolutamente anzi vedi usa questo slogan convintamente in modo sono convinto di questa slogan che sto usando che sono veramente orgoglioso di appartenere a questo movimento leghista ormai dal 93 mi sono iscritto alla Lega e mi sento a casa mia e non trovo alcun imbarazzo assumere questo ruolo anzi meglio ancora la lotta continua la lotta per una legalità perché credo che oggi in questo paese la Lega è l'unico movimento che lotta per la libertà per la legalità della società italiana non credo che ci sia assolutamente motivo di imbarazzare poi per quanto riguarda l'affermazione di Cadoroli io vi dico sempre quando si usa questo tipo di affermazione che può anche essere poco simpatica nel contesto politico non vedo niente di male amici miei assolutamente perché mi ricordo anno scorso nella mia campagna elettorale per il regionale non vi dico quante quante atti di rassismo di intimidazione ho subito il sottoscritto ho subito anche io senza fare rumori perché mai mi chiami negro negro per definizione latino vuol dire nero niger in bergamasco vuol dire nero che niger bergamasco che niger leghista che ben venga grazie volevo sapere se la sua appartenenza alla Lega non le ha creato problemi all'interno delle sue comunità cioè dei suoi grazie una bella domanda sapete che ci sono tanti leghisti neri in questo paese che non vogliono farsi veramente magari individuare oppure che convintamente sono leghisti e votano nella Lega quindi nessun motivo per sentirmi in bergamasco anche nella mia comunità anche perché c'è una cosa veramente che abbiamo attuato con i miei coni nazionali attraverso un'associazione con l'aiuto della Lega perché noi facciamo senza fare rumore ricordate quella slogan inventata dalla Lega che dice aiutiamoli a caso loro quella slogan ve lo dico subito che non è uno slogan o una frase demagogica politica come può sembrare la Lega ha pensato bene questo slogan e vi dico veramente che aiutiamoli a caso loro favorisce lo sviluppo in qual'area geografica dei paesi aiutiamoli a caso loro vuol dire crea anche quelle amicistre tra popoli aiutiamoli a caso loro vuol dire ridurre i conflitti tra i popoli quindi ci sono veramente molti significativi molto importanti per quanto riguarda cioè inerente a questa frase oggi posso dire che nel mio piccolo con la mia associazione in due persone con altri comunità membri della mia comunità abbiamo potuto con l'aiuto della Lega della regione Lombardia anche ad estrare 36 infermieri provenienti dell'Africa e nove medici in collaborazione con il governo locale del paese di provenienza e siamo curiosi di fare questo quindi aiutiamo comunicato loro è una cosa veramente bella funzionante possibile attuabile prego scusate Tony una domanda per Tony mi senti allora il tuo paese di origine la Nigeria conosce cosa significa l'estremismo islamico con Boko Aram eccetera cosa faresti nei confronti dell'ISIS dei combattenti islamici in Siria e Iraq giusti i raid degli anglo-americani o invasione di terra e per Matteo Salvini invece con le regionali da soli con Berlusconi e se Berlusconi vi dice anche Alfano oppure niente voi cosa fate? Partiamo dalla cosa meno interessante che sono le regionali e le alleanze ma la prima regionali che ci sono su novembre quelle per l'Emilia-Romagna abbiamo già detto a Forza Italia che se sulla scheda c'è il simbolo della Lega Nord non ci sarà quello dell'NCD quindi scelgano loro noi siamo pronti a correre da soli a correre alleati è chiaro che se sabato 18 ottobre saremo in 100.000 in Piazza Duomo contro il governo Renzi-Alfano perché più che Alfano il responsabile di questa situazione è Renzi che infatti non parla mai di migrazione sfugge come un serpentello e usa Alfano come come punto e non vado oltre chiaro ed evidente che in Emilia se ci siamo noi con un candidato assolutamente in gamba giovane e credibile ci può essere Forza Italia ci può essere Fratelli d'Italia ci possono essere liste civiche non ci può essere un movimento al governo con Renzi questo è poi per quanto riguarda la primavera prossima chi vi la vedrà sì il mio paese Nigeria è un paese che ha applicato per l'eccellenza il concetto e il programma federalista è un paese che conta 36 stati confederati con un governo centrale per fortuna questo disodine di tipo religiosa succede soltanto in tre paesi e credo spero che viene a più presto depennata una volta per sempre perché è una cosa senza senso ecco perché in questo momento veramente bisogna combattere l'ISIS non sono militari quindi non vuole entrare in merito come e quando bisogna combattere perché è un rischio per il mondo intero anche per tutti noi qua dobbiamo cercare ogni tanto di ragionare con il buon senso tutti quanti per capire un po' quando i pericoli incombino quindi l'ISIS va combattuto quando si parla dell'ISIS non si parla delle islami le religioni islamiche che è una cosa diversa è tutta un'altra cosa sono dei fanatici ecco senza entrarci molto in merito sempre per Tony faccio una domanda che forse mi scuso se può sembrare indelicata lei ha detto che è arrivato 38 anni fa volevo chiedere per quale motivazione lei è venuta nel senso che cosa l'ha spinta a vedere in Italia e se 38 anni fa le avessero detto no lei in Italia non entra come si vedrebbe oggi benissimo mi ero preparato perché è una domanda ormai sono abituato con questa domanda veramente perché qui ormai la mentalità quando si parla di immigrati quando si vede un immigrato sulla strada pensano che tutti sono entrati in questo paese in modo illecito no ve lo dico maggior parte a parte in questi ultimi tempi veramente io ho qua una copia del mio vecchio passaporto un vecchio passaporto nel 76 dove ho ottenuto visto italiano per recami in Italia per motivo di studio senza il quale assolutamente non avrei potuto entrare in questo paese evidente quindi ve lo mostro per chi è interessato e oggi ci sono tante persone come me che entrano in questo paese con tanto di visto italiano da tutto il mondo quindi vi chiedo non pensate cancellate quella mentalità che tutti i stranieri siano tutti clandestini non intendevo ovviamente quello non che lei fosse clandestino regolare c'è proprio la motivazione per cui ha chiesto il visto per venire in Italia e poi è rimasto in Italia c'è proprio la motivazione personale non era una questione di legge scusami se ho un po' anche esagerato entrando in merito sì non sono qua per motivo di studio poi via via ho trovato una mia anima gemella che mi ha consentito di sposarmi e restare in paese sono molto orgogliosi di appartenere orgogliosi di appartenere due mondi nel senso che sono un Italia nigeriano mantengo tutti e due i passaporti ho un rapporto con tutti e due i governi di entrambi i paesi ed ecco non voglio aggiungere altro quindi senza entrarsi troppo in merito volevo chiedere al signor Tony cosa pensa di fare cioè quali saranno le sue prime diciamo azioni politiche sia sul piano interno quindi in relazione al governo cosa intende chiedere e cosa intende fare a livello invece internazionale sia sul piano europeo sia sul più genericamente sul piano proprio mondiale quali saranno le sue prime azioni politiche ok grazie primissima azione politica è il 18 ottobre dove parleremo della dell'immigrazione clandestina cioè lo sapete il mio segretario ve l'ha mostrato ve l'ha detto vi ha anche invitato il 18 ottobre dove parleremo cercando di sensibilizzare ormai di spingere il governo italiano a desistere da questa grande idiosia che si chiama mare nostro primo poi per quanto riguarda il rapporto il rapporto con i governi africani ho già cominciato già dal mese di luglio quando recai in Nigeria ho avuto un incontro con esponenti del mio governo cercando di sensibilizzarli e indurre i nostri giovani veramente di non uscire dal paese in modo illecito perché abbiamo contestato che ci sono tanti morti dal Nigeria fino alla costa libica non potete mai rendere conto quanti sono morti in questa tragedia e quanti hanno venduto i terreni dei loro genitori solo perché sentono che il governo italiano apre le frontiere per tutti quindi disinformazione abbiamo lavorato con il mio governo per vedere un po' di trovare un modo per sensibilizzare e informare la gente la propria di non ricasse a trove anche perché il mio paese è un paese estremamente ricco quindi non c'è motivo di lasciare il paese un paese che produce 2 milioni e 600 barili a giorno di petrolio con tanti minerali risorse minerali marine e non è ricca estremamente ricca quindi bisogna lavorare su questo ambito ho anche un altro incontro programmato un altro incontro con il governo di Ghanese di cui ho collaborato già per 15 anni ad oggi questa sono le azioni da compiere no anche perché l'immigrazione clandestina riguarda soltanto l'Italia un'anomalia in tutto il mondo in tutto il mondo solo questo paese abolita il controllo sull'immigrazione impossibile e perché io comincio a credere che è una cosa pianificata una domanda sia a Salvini che al signore Iwobi ecco non temete che questa nomina possa essere criticata per gli stessi motivi per cui è stata criticata la nomina la Lega stessa ha criticato la nomina della Chienge in quanto un ministro non preparato ma diciamo nominato soltanto per una questione di facciata per il colore della pelle no perché Tony ha fatto il consigliere comunale ha fatto l'assessore ai servizi sociali partecipa alla vita della comunità leghista da 21 anni è perfettamente inserito nel contesto sociale dove vive non so che cosa avesse fatto la Chienge prima di diventare ministro so quello che ha fatto dopo ovvero sia nulla per fortuna non ha lasciato traccia alcuna di sé tanto che è stato un governo di centro-sinistra a licenziarla senza articolo 18 e lasciarla a casa io sono sicuro che farà di più toni per gli italiani e per gli immigrati regolari in un mese di quanto non possa fare la Chienge nell'arco della sua intera vita grazie grazie segretario vedi io cerco sempre di non paragonarmi alla signora Chienge assolutamente siamo due persone distinte diverse ognuno nella propria convinzione appartenenza politica con tutto rispetto con tanto rispetto chi dico sempre se questo paese è un paese democratico allora abbiamo tutti i diritti di appartenere io ho scelto la lega dove mi trovo bene e cerco di portare avanti le sue idee convincentemente perché credo ci credo quindi per cotesia cerchiamo di non tirare in ballo la signora nel suo nel rispetto reciproco anche ultima se c'è ieri qualcuno ha già definito un po' ipocrita questa operazione proprio per i motivi che diceva prima il collega ma se qualcuno definisce ipocrita questa operazione è perché il razzismo sta a sinistra il vero razzismo sta a sinistra in Italia e quindi chi ha la coscienza sporca evidentemente di fronte a parole che avete sentito in questi 30 minuti di una chiarezza di una linearità e di una pacatezza senza uguali evidentemente a qualcuno rode perché qualcuno è vero magari ha usato il coro della pelle portando a casa risultati zero per quanto ci riguarda il coro della pelle è l'ultimo dei problemi e i risultati ci saranno quindi sono ben contento che qualcuno si arrabbi e spero che questo serva di lezione a capire che Mare Nostrum è un'operazione razzista oltre che inutile quindi lo denunceremo fino alla fine e spero che Piazza Duomo a Milano il 18 ottobre sia tanto tanto colorata vi ringrazio grazie